Ciao! A grande richiesta, ecco la prima comparazione per la stagione 22-23. La seconda maglia dell'Arsenal in versione fan, quella che vedete appena indossata è in versione fan. Mentre qui di fianco potete vedere la versione player della stessa maglia. Come vedete da lontano sono praticamente identiche. Poi vedremo nella parte seguente del video le varie differenze. Tra l'altro da notare che in questa versione la player questa è una taglia L, mentre quella è una taglia media. A dopo! Come al solito una delle principali differenze tra la versione player e la versione fan è che nella versione player i loghi sono termosaldati, mentre nella versione fan questi sono ricamati. Questo viene fatto per dare un maggiore comfort agli atleti nella versione player durante la partita. Vi ricordo che quando si parla di versione player e versione fan non si sta descrivendo una versione vera e una versione falsa. Sono semplicemente delle versioni diverse della stessa maglia. La versione player o anche authentic o match è la versione usata dai calciatori durante la partita. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione fan e la versione player. Come vedete non sono tantissime, ovviamente la versione player è un po' più tecnica, la versione player è esattamente quella indossata dai calciatori durante la partita, quindi hanno qualche accorgimento superiore rispetto alla versione fan ed è anche per quello che costa un po' di più. Ora prima di lasciarvi vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni e comparazioni in futuro. Oggi è tutto, ciao!